benvenuti a canale dei sardi siamo alle porte della costa smeralda nel gol di cuniana uno dei posti più belli e suggestivi della sardegna ho il piacere di essere stato invitato da simone morelli amministratore di nss yachting a bordo del nuovo lagoon 55 il menù di oggi è ostrica la diavola fregola con gamberi cozza e vongole e un filetto dorata con melanzane pomodoro e pesto direi meravigliosa molto molto confortevole ti sembra di volare sull'acqua le cabine gli spazi bellissimi grande luminosità queste cabine così chiare una grande luminosità e tanto spazio entrando proprio qui in questo ambiente living il fatto che sia così luminoso sobrio e allo stesso tempo elegante con rifiniture di lusso fare il tuffo da dietro alla piattaforma l'esperienza meglio da poter fare su una barca come questa sarebbe ormeggiarsi in una bella baia svegliarsi la mattina all'alba e fare un tuffo in acqua appena svegli penso che è meglio della camera di casa veramente meravigliosa una luce incredibile una vista questa finestra davanti al letto sul mare vista sul mare meravigliosa l'arredamento con dei bellissimi colori il bagno visto meraviglioso molti specchi io credo che il posto perfetto dove divertirsi con questa barca è la sardegna mi è piaciuto il prendisole sul fly bridge sicuramente il fly molto abitabile con dei grandi spazi perché abbiamo pranzato in questo fly meraviglioso quindi più spazio e anche nella dinette al piano terra poi questo salotto sembra di essere a casa veramente confortevole caldo accogliente molto elegante io sono stata sì sul prendisole anteriore è fantastico perché comodissimo si può godere del panorama e si sta veramente bene ciao 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 ciao